Buonasera, siamo qui alla prima partita della terza giornata Mavericks, siamo con i Jerrytex e i San Dino Fotografia. Voi siete in vantaggio per 1-0 quindi, che ha segnato Donadio. Come sta andando la partita? Abbastanza bene, possiamo fare di più, però a causa del vento anche, il campo è bagnato. Vabbè, ce la giochiamo anche a secondo tempo, va? Vabbè, quindi sta andando perfettamente, diciamo. Invece voi? Eeeh, niente, dobbiamo giocare meglio, anche se ci stiamo giocando la partita, però... Allora, comunque 1-0 è buono, perché loro sono abbastanza forti, o sbaglio? Sì, abbiamo tenuto tutto il primo tempo, agli ultimi minuti abbiamo preso il gollo, quindi speriamo di rimontare. Va bene, ok, a dopo. Allora, buonasera Frida, la prima partita, abbiamo qui il signore... Buono Ciro. ...della squadra Jerrytex, che vince 2-0, vero? Come è andata la partita? Eeeh, malissimo, pensavo di meglio. Comunque sono bravi pure i ragazzi e noi dobbiamo giocare un po' insieme. Vabbè, pure un po' il maltempo, sbaglio, il vero. No, ma qual è il maltempo? Siamo noi. È andato un po' così così. Sì, va bene, la recuperiamo la prossima volta, però avete vinto, ok? Va bene, a dopo. Allora, ragazzi, voi presentateli. Niki Vigilante. No, Cerno Luigi. Cerno Luigi. Allora, ragazzi, la partita come è andata? Avete perso, 2-0, per un'autorietà anche, vero? Chi vuole parlare? Parla lui, parla. Vai, Niki, vai. Quello che si è visto, diciamo, ci siamo giocati la partita, loro l'hanno spuntata su due episodi. Potevamo giocarla meglio, però è andata così. Va bene, comunque 2-0. Non è male. Non è male, nel senso che comunque la squadra è forte. Sì, sì, siamo noi che siamo anche scarsi, però. La scorsa l'hanno vinta 10-1, se non è. 10-1. Quindi è un buon risultato, credo. Sì, sì, l'ultima pericotta è posta. Va benissimo, qualcos'altro, ragazzi? Basta così. Va bene così? Ok, ciao ragazzi.